buongiorno ragazzi vi sentite qualche volta giù di tono insomma con i muscoli un po scarichi oggi ho l'estratto che fa per voi è ricco di ferro e fai bene i nostri muscoli utilizzerò succo vivo pro 2000 dimetec l'estrattore professionale pensate che permette di estrarre il 100 per cento delle vitamine nella nostra frutta e verdura grazie al suo potente motore professionale induzione che lavora a 48 giri al minuto inoltre grazie a questa doppia imboccatura permette di utilizzare frutta e verdura anche a tagli più grossi tra tutti i filtri in dotazione io ho scelto quella maglia larga conoscete il mio debole per le fibre iniziamo a inserire la verdura nell'estrattore il motore di succo vivo pro 2000 dimetec è davvero molto potente pensate che può lavorare fino a addirittura 30 minuti senza fermarsi anche con la frutta e verdura più dura come le carote con lo zenzero in pochi secondi abbiamo ottenuto un bonus di ferro per i nostri muscoli insomma ci sentiremo più tonici e potremo tornare in palestra più velocemente amici a voi tutti salute e grazie a succo vivo imetec pro 2000 il nostro estrattore professionale grazie a tutti grazie a tutti